Valeria Valente, parlamentare PD. Ieri il Premier Letta ha annunciato interventi per abbassare le tariffe dell'RC Auto, che tra l'altro in Italia sono tra le più care in Europa, soprattutto al sud. Ma cosa si può fare in concreto? Va, intanto sicuramente lavorare verso le compagnie assicurative chiedendo loro intanto di attuare quei contratti base previsti in un decreto legge del 2012 al quale ci auguriamo nel prossimo Consiglio dei Ministri Letta e il Governo diano finalmente attuazione. Significa chiedere all'assicurazione di spiegare intanto e mettere gli utenti nelle condizioni di capire perché i costi sono quelli, da quali scelte e da quali condizioni derivano quei costi e soprattutto lavorare affinché si possano anche diminuire i costi per l'installazione delle cosiddette scatole nere sulle auto in maniera tale da prevenire in qualche modo frodi e in questo caso chiedere anche alle compagnie assicurative di rivedere i prezzi che, ricordiamolo, non solo sono ingiustificati rispetto al resto d'Europa ma sono sicuramente ingiustificati nei termini differenziali che esprimono tra nord e sud. Una stessa auto di piccola cilindrata chiede una copertura assicurativa con un costo di 1200 euro al sud e 350 euro al nord. Questi sono costi differenziali inaccettabili ma in generale costi evidentemente troppo alti e spiegati probabilmente anche in ragione di un oligopolio delle compagnie assicurative al quale secondo me noi dobbiamo necessariamente, verso il quale, fare una battaglia concreta, più incisiva, più coraggiosa senza temere soprattutto dalla parte degli utenti che dentro questa vicenda sono sicuramente la parte più debole. Ecco ma perché c'è questo divario tra nord e sud? Ci saranno delle responsabilità? Le responsabilità sono in linea di massima riconducibili a un atteggiamento delle assicurazioni che invece di capire per quali ragioni i sinistri sono più alti al sud e lavorare quindi su questo numero di sinistri e sul verificare anche eventualmente il terreno delle frodi quante sono le frodi, quante sono... Quindi noi crediamo che si possa anche lavorare per rendere ovviamente più stringenti le pene verso le frodi quindi da questo punto di vista anche un atteggiamento diciamo più aggressivo su questo terreno ma alle assicurazioni va chiesto anche di avere un atteggiamento più responsabile nel cercare di capire perché se è vero che queste frodi combatterle insieme diciamo queste frodi anche perché pur guardando ai numeri delle frodi ripeto al numero dei veicoli per strada e al numero delle coperture delle polizie assicurative comunque non si giustifica questo differenziale che è sicuramente esclusivamente il frutto di un potere che resta in mano a pochi che possono dettare leggi anche in ragione appunto dei loro interessi e ovviamente dei loro tornaconti grazie 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 grazie